non so se mi sentite dimmi tu si si poi mi sentiamo ciao Tullio, ciao Giuseppe ricordo il segretario generale del Gris ciao a tutti mi scuso per l'inconveniente tecnico ma venivo dal lavoro sono arrivato un po' tardi e me non funzionava sembra tutto fatto a posto ieri abbiamo fatto la prova con Tullio funzionava tutto oggi va bene voglio parlarvi di meggiugori ed è un tema che mi sta molto a cuore mi ha fatto molto pensare chi mi è stato vicino sa quante volte mi sono confidato perché non sapevo cosa fare di questo materiale il punto vero per me da cristiano e da professionista era questo cosa fare di questo materiale il materiale mi è stato consegnato il 19 settembre del 2019 è una data importante per me Tullio perché è la festa della Madonna della Salette che è un'altra apparizione riconosciuta che forse molti di chi mi ascolta conoscono ed è anche una vicenda che mi appassionava perché anche lì sono andato a caccia di segreti di cose che non si sapevano su tutto questo c'è un barone che dice che il nu non sente nulla Giuseppe tu mi senti? io sento ti sentiamo perfettamente perfetto allora continuo si sente pianissimo mi dicono alzo un po' il volume io sento bene ho alzato un po' il volume e mi avvicino anche un po' io sento bene così probabilmente devono regolare il loro audio può essere si può essere io mi spiace che sto parlando dalla camera da letto di mia figlia quindi se vedete Pupazzi, Pinocchi o Elsa eccetera è dovuto a questo perché tutto questo anche il mio portatile non funzionava vabbè ma andiamo avanti andiamo al sodo andiamo al punto quello che io voglio dire ed è la cosa che più mi ha appassionato è che effettivamente su Meggiugori c'è stato uno sconto all'interno della Chiesa questo scontro è stato a più livelli ovviamente non solo tra semplici fedeli come posso essere io ma anche a livello gerarchico e questo scontro è stato veramente fortissimo e ha prodotto delle conseguenze cerco di ricapitolare perché secondo me tante cose nessuno le sa io mi sgolo per cercare di dirle sempre di più però poi si dimostra quando mi è arrivato questo plico il 19 settembre dentro c'era cosa? la famosa relazione della Commissione Internazionale Pontificia d'inchiesta su Meggiugori perché esiste questa commissione? perché sul fenomeno di Meggiugori precedentemente c'erano state altre commissioni le riassumo velocemente ma giusto per darvi un contorno così capiamo perché è importante questo lavoro la prima commissione che è stata fatta su Meggiugori è stata fatta dalla diocesi di Mostar dal 1982 al 1984 sostanzialmente non ha prodotto nessun risultato successivamente visto che il fenomeno di Meggiugori continuava continuava ne hanno aperto una ne hanno fatta un'altra era la stessa allargata diciamo così è durata dal 1984 al 1986 in questo caso la commissione ha dato un parere anche qui già cominciamo male perché il parere non è chiaro perché per molti è attendista ufficialmente è attendista per altri invece è negativo poi vedremo cosa vuol dire le formule eccetera successivamente e questa è la famosa è quella che poi diventerà la famosa dichiarazione di Zara che viene fatta nel 1990 ricordiamo che il fenomeno di Meggiugori nasce comincia tutto il 24 giugno del 1981 le date sono importanti perché se no non capiamo cosa succede in quel giorno la Madonna appare o apparirebbe se vogliamo a sei ragazzi non sono gli stessi ma sostanzialmente i sei il gruppo forte sarà fatto da sei persone le apparizioni che ci interessano che hanno interessato il lavoro della commissione avvengono in un range di tempo che è dal 24 giugno al 4 luglio 1981 in questo range di tempo le apparizioni le presunte apparizioni a questi ragazzi sono 11 ok arriviamo al punto la commissione viene istituita dopo quelle precedenti che abbiamo visto che finiscono nel 90 con la dichiarazione di Zara la commissione viene eh si parlo più vicino al microfono la commissione viene presieduta dal cardinal Ruini ed è stata istituita da Benedetto XVI nel 2010 la commissione lavorerà quattro anni e ne fanno parte personaggi di spicco nel senso che ne fanno parte cardinali arcivescovi mariologi psicologi eh religiosi donne una suora c'è anche e esperti esperti di vari discipline storici traduttori e quant'altro cosa deve fare la commissione questo è importante perché se no perdiamo il filo di tutto la quando Benedetto XVI ha istituito la commissione ha chiesto categoricamente alla commissione di dare risposte allora è vero o no Meggiugori questa è la prima cosa che doveva dire la commissione è vero o no e la seconda quali possono essere i problemi pastorali annessi al fenomeno di Meggiugori ora e qui arriva il primo giallo perché perché la commissione è detta pontificia perché è stata istituita dal Papa ma è stata istituita in seno alla congregazione della dottrina della fede quindi già qui abbiamo l'anomalia c'è una commissione fatta da che dipende dal Papa ma è dentro la con la congregazione della dottrina della fede è chiaro che Benedetto XVI era il Papa quindi è stato stato ed essendo stato il prefetto dell'ex santo ufficio in qualche modo era garante anche dell'equilibrio tra queste due istituzioni il quindi se vogliamo il giudizio della commissione pontificia e questo era il suo obiettivo dare un giudizio è vero o no Meggiugori sostanzialmente doveva essere ad un livello gerarchico superiore a qualsiasi altro pronunciamento soprattutto pronunciamento di Zara il pronunciamento della diocese di Mostar e ad eventuali pronunciamenti della congregazione per la dottrina della fede cosa fa la commissione? prende tutto il materiale che c'era dalle precedenti anche ovviamente dalle precedenti commissioni e comincia a studiare tutto quel materiale alle riunioni partecipano anche ma non sono membri ma partecipano anche sia il prefetto della congregazione per la dottrina della fede di allora sia il ovviamente il segretario dello stesso di Castero è interessante che per la formazione del convincimento di questa commissione è stato deciso di utilizzare le norme che già esistevano su questi fenomeni che sono le norme risalenti al 78 e successivamente nel 2000 rimodificate e riaggiornate e soprattutto hanno ripescato e questo è veramente interessantissimo tutte le procedure che sono state eseguite per il riconoscimento di Lourdes Fatima e Belpasso e qui Tullio torniamo in terra siciliana e Belpasso c'è una situazione da cui in qualche modo gli studiosi hanno trovato alcunque hanno trovato gli studiosi della commissione hanno trovato delle similitudini poi le vedremo il metodo che usa questa commissione è un metodo scientifico cioè analisi e forse questa è la prima volta che viene utilizzato questo metodo per meggiugori analisi dei fatti studio delle prove e dei testimoni deduzioni e contro deduzioni così lavora la commissione ed ecco perché per me è un vero e proprio capolavoro cosa fa di concreto quindi la commissione raccoglie tutto il materiale che già si aveva in qualche modo e va a frugare in via una suora via una suora membro della commissione a frugare negli archivi segreti dell'ex polizia segreta dell'ex jugoslavia quando i fatti accadono lo ricordo c'era ancora l'ex jugoslavia c'era la jugoslavia si faceva parte del territorio jugoslavo e ascolta e interroga tutti i veggenti ascolta e interroga tutte le persone interessate quindi interroga padre Jozo per esempio interroga il vescovo attuale di Mostar Monsignor Peric effettua in segreto immaginate anche la scena in segreto quindi senza abiti ecclesiastici effettua un sopralluogo a Mezzugori partecipa ad una apparizione alcuni membri che sono stati in sopralluogo a Mezzugori partecipano direttamente ad un'apparizione della Madonna presunta apparizione della Madonna fanno analizzare tutti i veggenti da un membro della commissione che è uno psicologo barra psichiatra esaminano la commissione esamina tutti gli eventuali miracoli accreditati presso Mezzugori e infine esamina tutte le vocazioni che sono nate grazie a Mezzugori questo è il lavoro della commissione finalmente il 17 gennaio 2014 il presidente della commissione Ruini consegna la relazione a chi la consegna questo è il punto da cui nasce il nuovo giallo la consegna nelle mani di Papa Francesco 2013 13 marzo 2013 Papa Francesco diventa il nuovo Papa quindi le consegna al nuovo Papa ben detto sedicesimo non c'è più viene quindi a mancare il garante all'interno della congregazione della dottrina della fede e forse anche per atto di cortesia se vogliamo Papa Francesco fa vedere la relazione consegnata da Ruini all'allora prefetto della congregazione della dottrina fede Cardinal Muller e da qui si apre un nuovo scenario perché si apre un nuovo scenario perché secondo me è la prima volta che assistiamo ad un conflitto di attribuzione di potere all'interno della Santa Sede su questioni del genere perché perché il giudizio della commissione ve lo vedremo nel dettaglio di Ruini era un giudizio favorevole alla alle apparizioni cioè almeno le prime sono vere l'ex prefetto della dottrina della fede non la pensa così e qui arriva e qui si alimenterà tutto questo giallo infinito e decide quindi che nonostante la commissione sia di carattere pontificio Cardinal Mure affida a due studiosi quindi abbassa il livello se vogliamo il livello gerarchico a due studiosi affida il compito neanche i membri neanche i consultori della dottrina della fede affida il compito di valutare se la relazione è stata fatta bene o è stata fatta male la relazione di Ruini i due studiosi non faccio il nome per correttezza danno un giudizio negativo sulla relazione dicono che la relazione Ruini è fatta su un metodo scientifico sbagliato io non capisco io l'ho letta queste controrelazioni non riesco a capire come si fa a dire che una relazione fatta in questo modo non sia di carattere scientifico comunque fatto sta questi due studiosi dicono questo portano il cardinal Mulle porta queste risultanze al Papa e il Papa come poi dichiarerà lui stesso in modo sorprendente di ritorno da un viaggio proprio a Fatima nel 2017 per non mettere in vendita così dirà il Santo Padre la relazione di Ruini che secondo Papa Francesco è fatta anche molto bene affida ad altri due studiosi le controdeduzioni delle deduzioni quindi abbiamo forse per essere più chiari relazione Ruini deduzioni volute da Müller da due studiosi scelti da Müller che dicono che è fatta male e altre due studiosi che invece contrastano i due studi degli studiosi che sono contrari alla relazione Ruini quindi alla fine abbiamo cinque studi su Međugorje a questo punto il Papa anche secondo me per prudenza per non dare adito insomma a fraintendimenti eccetera decide di prendere tutto questo materiale e affidarlo alla cosiddetta Feria Quarta della congregazione della Dottrina della Fede la Feria Quarta è la plenaria della Dottrina della Fede in cui a tutti i membri di diritto della congregazione quindi cardinale arcivescovi e vescovi affida tutto questo materiale chiedendo facendo una domanda esplicita il Papa fa una domanda esplicita e dice cardinale e vescovi leggetevi tutto questo e alla luce di tutto questo mi dovete dire se per voi Međugorje è vera o falsa e qui arriva l'altro punto come tutte le commissioni l'oggetto della commissione è un parere autorevole ma sempre un parere cioè il Papa chiede Giovanni Benedetto XVI Papa Francesco chiunque chiede alla commissione di dare un parere quindi il Papa ha tutta la facoltà e tutto il diritto di cambiare di cambiare quella relazione quel parere di non sentirlo di non accoglierlo di rifiutarlo di non volerlo accettare di modificarlo ma può fare tutto perché i pareri perché scusatemi le commissioni fanno questo danno semplicemente dei pareri sono anche pareri autorevoli come in questo caso ma sempre pareri ed ecco perché il Papa chiede ai componenti della feria quarta un giudizio su Međugorje perché dice ho sentito quello che dice la commissione ho sentito i due studi che si combattono a vicenda ai cardinali dico voi cosa ne pensate di Međugorje cosa diranno i cardinali lo vedremo magari nel prossimo libro perché anche lì è molto interessante capire in quante posizioni e in che modo rispondono e quale motivazione adducono alla loro risposta vi posso tanto accennare che il voto è per lo più negativo nei confronti di Međugorje e anche questo è molto anomalo abbiamo l'unico se vogliamo l'unica commissione preposta a questo che dice sì il resto invece dice no e questo è per dirvi lo scontro quanto è altro arrivato arriviamo alla relazione questa relazione è composta da una trentina di pagine sono le risultanze di circa mille 1500 pagine di verbali che io ho raccolto e ho studiato e che alla fine fondono si uniscono riassumono un po' quello che la commissione Luini pensa di Međugorje lascio per non annoiare troppo tutta la questione in male che è la questione erzegovinese cioè il conflitto secolare ormai tra la diocesi dimostra da cui dipende territorialmente Međugorje e i frati soltanto per darvi un'idea ma è tutto da approfondire quando c'è stata l'ultima guerra i preti sono scappati dalle diocesi i preti sono scappati dalle diocesi i frati sono rimasti e questo fa loro onore nelle diocesi finita la guerra i preti hanno rivoluto indietro le diocesi e le parrocchie i frati si sono opposti è nato un contenzioso infinito questo succede non a Međugorje ma in tutta la provincia della Bosnia della provincia francescana della Bosnia di Erzegovina si sono è nato questo contenzioso è intervenuto addirittura il Papa che ha deciso di scomunicare quindi c'è un atto di scomunica quindi pensate anche lì insomma canonicamente e amministrativamente quanto c'è ancora da lavorare quindi la questione del Zegovinese poi se vogliamo la trattiamo in altro modo arriviamo al punto cosa dice la commissione la commissione Luini dice sostanzialmente che le prime parentesi sette apparizioni sono vere cioè la commissione afferma che dopo aver studiato valutato visto ricontrollato rinterrogato e nuovamente verificato ha stabilito che nel periodo che vi ho detto all'inizio cioè quello che va dal 24 giugno 1981 data in cui cominciano le apparizioni alle 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 ecco al 4 luglio 1981 in questo lasso di tempo ci sono ci sono state 11 apparizioni di queste 11 apparizioni 7 sono vere primo problema quali di queste 7 sono quelle autentiche e quali non cioè la commissione secondo me ma non ho prova è una mia intuizione non ha avuto il tempo di definire una per una quali fossero le apparizioni autentiche e quelle non comunque fatto sta che ha ha detto che le prime apparizioni sono vere e sono vere quelle che sono 5 di queste 7 sono avvenute nel podbo la collina delle apparizioni per intenderli ma non cita quali questo è il punto è vera l'apparizione che si è che si è verificata a Cerno i ragazzi a un certo punto quando la cosa era diventata molto diffusa quando tutti sapevano di tutta questa questione sono stati prelevati dalla polizia comunista presi e portati in Cerno ed era il giorno dell'apparizione in cui questo rapimento tra virgolette questo sequestro avviene nella stessa i ragazzi chiedono alle macchine di fermarsi perché devono parlare con la Madonna questo momento in cui i ragazzi dicono di avere l'apparizione per la commissione di ruini è vera è autentica e inoltre è autentica anche l'apparizione della casa parrocchiale non in chiesa casa parrocchiale quando appunto i vergenti stanno per essere arrestati e padre Iozzo li va a difendere e li porta nella sua sala parrocchiale e qui i ragazzi affermano di vedere la Madonna anche questa apparizione è autentica perché solo queste sono autentiche e perché e come definiamo le altre per la prima volta secondo me visto anche il fenomeno così duraturo anche se ricordiamo che non è l'apparizione più lunga della storia quella più lunga attualmente è quella di L'O in Francia in questo caso la commissione ha ritenuto di dividere in due fasi l'evento prima fase e quindi 24 giugno 3 luglio fase successiva cioè la fase che dal 4 luglio ad oggi ancora le apparizioni sono ancora in corso quindi abbiamo per la prima volta la divisione netta del fenomeno in due parti e cosa hanno di diverso queste apparizioni autenticate e quelle altre ancora in corso la madonna della commissione in queste autentiche appare sempre nello stesso posto quindi appare cinque volte a pod però abbiamo detto e poi in due parti diverse tutti i veggenti la ricordano allo stesso modo altro motivo per cui la commissione dice che sono vere il messaggio è per tutti i veggenti quindi non c'è un veggente che sente una cosa è un veggente che ne sente un'altra è per tutti l'apparizione queste apparizioni si verificano all'improvviso quindi non c'è la madonna che appare dice io appaio ogni due del mese ogni 25 no appare all'improvviso le apparizioni provocano paura a tutti i veggenti a tutti i ragazzi ragazzini all'epoca e le apparizioni sono vere perché non avvengono in chiesa che vuol dire è che se fossero avvenuti in chiesa potrebbero essere inficiate contaminate dall'ambiente circostante suoni musica odori incenso candele quindi per evitare anche questa possibile suggestione il fatto che la madonna non è apparsa in chiesa è motivo di veridicità dell'apparizione stessa ok su queste apparizioni la commissione è stata è stata compatta su 15 membri 13 13 quindi maggioranza assoluta 13 anzi quasi un plebiscito 13 hanno affermato che è tutto vero costat di super naturalità un membro si è detto attendista aspettiamo ancora per intenderci e un altro membro ha detto no è falso non è non è non costat di super naturalità definito bene questo blocco e capite da soli che questo è già di per sé un evento molto forte per la prima volta la chiesa si esprime la chiesa la commissione del papa si esprime su un fenomeno ancora in corso e ne dichiara la veridicità per almeno la prima parte comunque la secche cosa insicuramente fa la scuola ecco questo voglio intendere cioè sicuramente quando ci saranno altri fenomeni degni di nota quindi non parlo di i cialtroni di turno che ogni tanto affermano si applicherà da ora in poi questo metodo per il resto e questo è l'altro problema cosa sono il resto come lo dobbiamo chiamare come lo dobbiamo definire per molestando la credibilità dei leggenti la commissione esclude per gli anni a seguire ogni tipo di manipolazione individuale o di massa cioè tradotto la commissione dice è impossibile che questi ragazzi abbiano retto il gioco abbiano retto una fandonia lunga quasi 40 anni senza che nessuno sia riuscito a smontarla quindi se questo è un fatto perché ancora 40 anni dopo ci sono pellegrini che vanno a Međugorje ci sono persone che vanno lì bisogna riconoscere che quantomeno non c'è manipolazione i veggenti sono credibili sono cialtroni cosa sono ma è interessante non tanto quello che dice la relazione quanto quello che raccontano i verbali e vi assicuro che sono commoventi soprattutto per alcuni veggenti gli interrogatori da parte della commissione quello che ricordo maggiormente è il piccolo Iacob che viene interrogato dalla commissione e lui racconta la sua vita da bambino io non conoscevo ed ecco un momento come poveretto veramente veniva dalla povertà raccontava che loro non avevano da mangiare il problema era cosa mangiamo oggi cosa mettiamo a tavola oggi non avevano il bagno in casa il bagno era fuori fuori dalla casa quindi estrema povertà era povertà in generale c'era la guerra quindi però diciamo che per Iacob la povertà forse era ancora di più sostanzialmente per la commissione i veggenti sono tutti credibili tranne per il solito per la solita pecora nera tra virgolette tranne per questo veggente barra veggente donna che per la commissione non è stato credibile perché ha un uso così lo spiega la commissione perché ha un attaccamento particolare al denaro o al cosiddetto benessere e qui dobbiamo sfatare e questo Tullio forse è la cosa che non si sa e qui dobbiamo sfatare un mito la commissione lo dice chiaramente nella relazione ma soprattutto nei verbali ha fatto una ricerca molto seria ha fatto un sopralluogo e ha dimostrato scientificamente che attualmente a Meggiugori l'unica persona che si è arricchita nel vero senso della parola grazie a questi fenomeni veri falsi che siano è un signore musulmano quindi ad oggi la persona che si è arricchita lo ripeto perché non ha capito maggiormente con tutta questa storia di Meggiugori è un signore musulmano che non c'entra niente né con i veggenti né con i frati non c'entra niente con i pellegrini è un signore che fa l'imprenditore questo non vuol dire essere un criminale ma che ha sfruttato il momento giustamente legittimamente per fare soldi la commissione ha verificato che tranne l'eccezione di questa persona del veggente che magari ha un rapporto particolare con i soldi nessuno vive nel lusso nessuno è ricco non è che l'hanno fatto a distanza sono andati hanno commissionato lo studio a persone esperte che hanno verificato andando a vedere l'agenzia delle entrate locale cioè è stata fatta una cosa molto seria non è che l'hanno fatto per sentito dire quindi sono contento di questo perché finalmente si fa chiarezza su un'accusa che non ha fondamento nei confronti dei veggenti e io non sono mai stato un mezzugoriano i veggenti che problemi hanno qual è il problema dei veggenti come vanno identificati cosa va fatto loro come vanno inquadrati anche questo è il problema allora per la commissione i veggenti innanzitutto sono in comunione con la chiesa e questo già vi sembra una cosa importante hanno è vero hanno poca cristiana e ideologica ma comunque sono in buona fede hanno lievi atteggiamenti un po' legati al discorso di ci sta devono campare anche loro quindi atteggiamenti di lavorativi di professionali per cercare di lavorare anche loro ma soprattutto il problema è che è questo oggetto il disonore lasciatemelo dire su chi aveva il compito di farlo perché l'accusa più grossa che fa la commissione non vedo più Giuseppe però vado avanti l'accusa che fa la commissione è sostanzialmente di avere di nei confronti dei veggenti o meglio i veggenti sono stati abbandonati spiritualmente e pastoralmente frati e vescovi se ne sono pregati non li hanno mai seguiti e questo ovviamente è inaccettabile perché comunque sia nel bene o nel male nel vero nel falso le persone comunque le devi seguire lo dico al vescovo di Mostar lo dico ai frati franceschiani che comunque hanno fatto anche loro hanno cercato di fare quello che potevano e qui arriva l'altra questione la questione del vescovo mi spiace sentir dire anche da ecclesiastici recentemente che stimo anche che Meggiugorio è falsa perché non ha obbedito al vescovo da cui dipende territorialmente quindi il vescovo di Mostar allora la commissione ha interrogato Monsignor Peric e c'è stato anche uno scontro molto forte nei verbali si legge tra i membri della commissione e il vescovo Peric perché Monsignor Peric continuava a difendere la propria liga e quello che è stato rinfacciato sempre a Peric è stato sempre ma tu li hai mai ascoltati tu li hai mai seguiti ci hai mai parlato li hai mai guidati questo è il punto vero per cui la ferocia con cui Peric e prima ancora il vescovo Zanich hanno avuto nei confronti di Meggiugori e nei confronti di questi ragazzi è inspiegabile questo scrive la commissione ciò nonostante sempre per la commissione e questo risulta in parte dalla relazione ma soprattutto dai verbali la commissione giustifica il caso di Zanich Monsignor Zanich era il primo vescovo di Mostra il vescovo che ha seguito l'inizio delle apparizioni e da grande sostenitore ne è poi diventato il grande nemico questo mutamento di 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 opinione nei confronti del fenomeno per la commissione anzi diciamo che è quasi certamente per la commissione è dovuto al fatto che lo stesso Zanich avrebbe ricevuto minacce molto serie stariamoci sempre nella realtà del momento con un sistema ateista con un comunismo che è una polizia con un modo di di governare che non tollerava assolutamente queste cose e nessuno può certo diceva Donabon diceva il Manzoni nessuno se uno il coraggio non ce l'ha non se lo può dare quindi è anche giustificabile se davanti a una minaccia di morte magari è possibile che Zanich abbia potuto cambiare idea e abbia tenuto questo punto Peric diventa molto complicato difenderlo tant'è vero che nella relazione questo mi spiace perché qualcuno l'ha pubblicato letteralmente e ha fatto anche il suo nome comunque nella relazione si consiglia al Santo Padre di spostare immediatamente Peric dalla sua diocesi trovare il modo di dargli qualcosa purché lasci e abbandoni la diocesi attualmente Peric un signor Peric ancora il vescovo di Mostra nonostante il suo mandato mi sembra da un anno e mezzo è vero che non mette più bocca su Mezzugori visto che a Mezzugori c'è un delegato pontificio detto questo a questo punto della commissione nuovo colpo di scena perché colpo di scena perché succede ancora lo scontro lo scontro dalle gerarchie più alte rientra dentro alla stessa commissione all'interno della commissione facevano parte anche membri della congregazione della dottrina della fede io non ho prove per dire quello che vi sto per dire però è certo che qualcuno di questi membri della congregazione per la dottrina della fede a un certo punto ha tirato fuori un dossier cosiddetto dossier Smutelovic Smutelovic era un membro della commissione che poi ha cambiato incarico e ha sostituito scusatemi era esterno alla commissione non faceva parte della commissione ha sostituito un membro che ha preso un altro incarico e quindi è entrato lui e un bel giorno alla commissione presenta il cosiddetto dossier Smutelovic su Međiuvoli non esiste nulla su questo dossier dovunque io l'ho letto perché ha gli atti l'ho letto e sostanzialmente sono una serie di lettere anonime spezzi di internet spezzoni di libri eccetera messi insieme e consegnati da qualcuno alla dottrina della fede per sminuire il fenomeno attaccare più che sminuire il fenomeno di Međiuvoli questo dossier per fortuna non è stato accettato come prova da parte della commissione quindi quando la commissione ha dovuto fare l'elenco di ciò che riteneva utile e del proprio lavoro e ciò che non riteneva utile ha deciso di escludere questo dossier perché ha detto alla congregazione scusate sono quattro anni che noi lavoriamo oggi meno uscite che avete un dossier e non dite nulla questo sempre perché appunto lo scontro quanti altri fatto sta che sembra ma ripeto è una mia impressione che a seguito di questo dossier ci siano stati dei licenziamenti all'interno anche clamorosi all'interno della congregazione per la dottrina della fede continuiamo con l'analisi della relazione come dobbiamo riconoscere e reputare i messaggi che la madonna affiderebbe ai veggenti per la commissione dobbiamo accettare del bene e del male sia per chi è per meggiugori sia per contro chi è contro meggiugori per la commissione i messaggi sono banali e ripetitivi sono eccessivi dovrebbero essere gestiti da un'autorità ecclesiastica e non lasciati improvvisare così chi li traduce deve avere un mandato chiaro deve essere affidato quindi i messaggi non hanno alcun valore i segreti altro problema enorme il problema dei segreti è un problema enorme io l'ho visto studiando il caso della saletta ecco perché all'inizio vi dicevo quanto è importante quella data per me come dobbiamo giudicare i segreti i segreti sono segreti devono rimanere tali e mai e poi mai lo sottolineo possono diventare la prova della veridicità dell'apparizione come è successo con la saletta e mai e poi mai nessuna autorità ecclesiastica e qui bene ha fatto la commissione Ruini che quando ha interrogato i veggenti prima di chiedere che potevano rivelare i segreti si sono riuniti e hanno detto ma noi abbiamo questo mandato chi ce lo può dare questo mandato di chiedere il segreto al veggente in nome di chi dovrebbe dircelo se effettivamente come loro dicono è la Madonna stessa che gli ha detto di non dirlo possiamo noi far violare questo patto e quindi i segreti non sono stati neanche contemplati nella relazione e quindi non hanno nessuna ufficialità ecclesiastica dubbi enormi rimangono sulla cosiddetta vita di Maria che sarebbe questa biografia della Madonna che una delle veggenti sta scrivendo ma che per la commissione non ha nessun tipo di ufficialità o veridicità e devo dire una cosa lo dico con tutto il cuore perché lo merita e perché soprattutto la commissione ha ribadito non si trova nella relazione ma nei verbali ha ribadito più di una volta che tra tutti i veggenti la persona il veggente più credibile per una serie di circostanze è la veggente Maria cioè la signora che abita qui in Italia a Monza lei è la donna è la veggente più credibile più equilibrata parliamo veloce i veggenti sono stati analizzati e studiati come diciamo le cose che possono crearci qualche difficoltà dobbiamo anche dire le cose buone per chi ha studiato psicologicamente e psichiatricamente i veggenti i veggenti stanno tutti bene non parliamo di matti non parliamo di persone esaltate parliamo di persone normali c'è stato un problema è stato chiesto più volte ma le apparizioni dovevano finire non dovevano finire la commissione c'era qualche veggente che avrebbe detto che le apparizioni sarebbero finite da breve e invece come sappiamo ancora continuano la risposta che si è stata data dalla commissione è che in quel momento la veggente che ha detto questa ha fatto questa ipotesi aveva letto un libro sull'urde e quindi probabilmente si è fatta influenzare in questo senso tutto questo o meglio a questo punto arriva all'ennesimo colpo di scena perché perché mentre credetemi per me leggere quei verbali di notte dopo una giornata di lavoro era la cosa più bella io mettevo a dormire moglie e figlia e non vedevo l'ora di mettermi nella mia stanza con la luce a leggermi quei verbali perché è un giallo che non finisce più perché dico questo perché a un certo punto mentre leggo queste cose trovo che il presidente della commissione fa un'affermazione scioccante e cioè riunisce la commissione e dice signori miei io ho sempre avuto dei pregiudizi su me giuori e ora questi pregiudizi non li ho più si confrontano i vari membri e gli chiedono ma come proprio lei eminenza così io ho cambiato idea per tre motivi mi accade qualcosa che mette i brividi perché perché tutta la commissione diciamo buona parte non voglio dire tutta ma buona i tre quarti della commissione era ostile al fenomeno di me giuori e grazie al presidente e a quello che dirà il presidente cambiano linea tutti i membri abbiamo visto che poi è un prebiscito l'approvazione quindi tutti cambiano indirizzo cambiano indirizzo per tre fatti fondamentali che accadono durante questo il primo l'interrogatorio di Padre Ionzo vedetemi è commovente sentire questo frate che ancora è in esilio per vari problemi forse anche legittimi per carità cioè magari è anche giusto che sia in esilio se è vero quello che dicono o per quello per cui è accusato Padre Ionzo fa risponde alle domande in modo mirabile e veramente commuove e questo lo dirà chi lo interroga e questa è la prima cosa che comincia a fare in qualche modo scricchiolare il pregiudizio la seconda cosa ancora più grossa quando alcuni membri della commissione vanno a Međugorje in segreto riescono a trovare due nastri che contengono i primi interrogatori il primo interrogatorio ai ragazzi ai leggenti da parte della polizia comunista acquisiscono il materiale lo fanno tradurre e le risposte di questi ragazzi nei confronti dell'autorità eccetto non parliamo di galantuomini né di modi a galantuomo sorprendono per schiettezza e grandissima fede terza cosa che ho deciso di pubblicare la testimone che nessuno aveva mai ascoltato parliamo della signora dorinca testimone oculare medico che ha partecipato alle primissime apparizioni e ha preso nota con taccuigli e penna come ci faceva una volta di tutto quello che succedeva e che incredibilmente non è stata mai ascoltata nelle precedenti commissioni di inchiesta sempre durante il sopralluogo la commissione riesce a trovarla la fa venire a Roma la fa testimoniare la interroga e è l'ultimo come dire l'ultima prova per la commissione per cui improvvisamente la commissione cambia indirizzo da un parere un'ostilità se vogliamo nei confronti del fenomeno diventa favorevole qualche dato dobbiamo dircela tutta perché alla fine noi non siamo la differenza tra me e qualcun altro è che io devo dirla tutta anche le cose che non sono buone vanno dette e questo non farà piacere a chi non ha fatto piacere a me però è un fatto vero e va detto la commissione la commissione pontificia ha studiato le 487 guarigioni archiviate nella parrocchia di Međugorje ne ha scelte tre e di queste tre nessuna è risultata miracolosa non è che l'hanno fatto loro ad occhio hanno preso queste cartelle cliniche hanno contattato le persone stesse che hanno detto di avere queste che hanno avuto queste guarigioni le hanno fatte studiare dalla consulta medica delle cause d'esame che ha dato parere negativa quindi ufficialmente ad oggi delle 487 guarigioni conservate nella parrocchia di Međugorje di miracoloso non c'è nulla di converso la stessa commissione ha verificato le 421 vocazioni che sono nate grazie a Međugorje e ovviamente le ha confermate nel senso che ne è rimasta colpita favorevolmente qualche piccola curiosità nella vicenda tortuosa di Međugorje compare uno strano personaggio questo personaggio era un frate ed è stata una delle prime guida dei fratelli dei veggenti fra Vlasic si chiama questo frate questo frate poi ha preso un'altra strada ha deciso di scomunicarsi ha creato quello che io chiamo un culto ufologico la Madonna scenderebbe col disco volante recentemente è stato sospeso e scomunicato qui e in Italia è curioso che quando la commissione manda la sua ora a verificare ciò che è conservato negli archivi segreti della polizia segreta comunista trova un dossier su tutti ma su Vlasic non trova nulla altra curiosità purtroppo uno dei membri curiosità altro fattaccio purtroppo uno dei membri anche autorevole della commissione che ha fatto parte della commissione pontificia guidata da Cadea Ruini è attualmente sotto inchiesta per motivi di pedofilia ora non so se sotto inchiesta o è accusato e si è dimesso non so ha problemi di questo tipo e questo dispiace non lo so Tullio volveamo dire altro visto che sono le 6.03 dimmi tu sì no se ci sono altre altre cose che ritieni importanti abbiamo tempo altrimenti altrimenti di trovare il modo di fare qualche domanda volevo tanto aggiungere che durante un sopralluogo il sopralluogo di alcuni componenti della commissione a Međugorje i componenti della commissione rimangono esterefatti perché partecipano ad una ad un'apparizione e la veggente non faccio il nome per carineria diciamo per evitarle un orgoglio spirituale mettiamola così rimangono impressionati perché la veggente poco prima stava cucinando un piatto di pasta e subito dopo ha questo suo momento di apparizione e questo fatto viene visto dalla commissione però in modo molto positivo perché viene visto come un modo naturale dell'evento una cosa forse importante che mi sono dimenticato Međugorje è veramente un mondo più lo studio più si aprono finestre un po' come quando si capita di entrare in certi siti che non sai mai dove vai a finire come dobbiamo considerare quindi i fenomeni che oggi accadono visto che soltanto le prime sono accertate di apparizioni oggi i veggenti quando raccontano le loro esperienze di cosa parlano o meglio come dobbiamo considerarle quelle esperienze allora e questo è anche un nuovo modo di affrontare le cose per la commissione quelle che oggi noi definiamo apparizioni quelle che in questi giorni in questi anni in ultimi anni insomma dal famoso 4 luglio in poi si sono verificate per la commissione sono esperienze mistiche personali non è una parizione come dobbiamo considerare le prime è soltanto come dire un modo che hanno queste persone i veggenti di parlare con il soprannaturale di rapportarsi con il soprannaturale però non hanno nessun non sono uguali alle prime ma ecco questo per intendere sono momenti personali mistici se vogliamo momenti personali giudo ricordando che sappiamo bene che non siamo tenuti a credere a nessuna apparizione per il cristiano basta semplicemente l'unica rivelazione che è quella contenuta nel Vangelo che si è conclusa con la morte dell'ultimo aposto per cui al cristiano basta Cristo si può essere perfettamente cristiani senza credere a Lourdes a Fatima a Guadalupe e a qualsiasi altra manifestazione perché l'unico credo è soltanto in quella persona che noi chiamiamo Gesù bene grazie David è stato veramente interessante questa tua relazione ci hai fatti entrare nel mondo diciamo di Međugorje da un altro punto di vista che forse molti di noi hanno visto Međugorje dal lato forse strettamente spirituale ma guardarlo dal punto di vista dello studio e anche dell'approfondimento che è stato fatto su Međugorje forse in questo modo in questo modo mai almeno per quello che mi riguarda io farei in questo modo adesso nella chat chi vuole può scrivere delle domande non abbiamo molto tempo perché il sistema alle 7 ci butta fuori però chi vuole può già scrivere qualche domanda vi prego di essere sintetici io David e Giuseppe le domande le vediamo quindi poi possiamo mentre le scrivete possiamo iniziare a rispondere non so se il professore Ferrari vuole dire qualcosa nel frattempo vedo che c'è una domanda già di lato cominciamo con la domanda ok David tu la domanda la vedi oppure te la leggo io adesso non la vedo ci chiede uno dei partecipanti ma il dossier è stato reso pubblico è stato reso pubblico dalla commissione quindi dalla chiesa o se ne ha conoscenza solo dal dottor Murza in questo caso perché non viene reso pubblico per la valenza che la pubblicità avrebbe allora rispondo a chi ha scritto dicendo questo no la relazione è non è segreta ma riservata non è stata mai pubblicata vi ripeto perché alla fine non è una decisione ufficiale della chiesa cattolica è un parere di una commissione su un fatto non ha quindi ufficialità non vincola il magistero non vincola il papa è soltanto un parere per me è importante per capire come e che cosa è accaduto a Međugorje è ovvio che il papa lo ripeto può fare quello che crede può stracciarla può inventarla può modificarla può rifarne fare un'altra può fare quello che vuole e quindi secondo me la Santa Sede non l'ha pubblicata perché è un parere e tale deve essere considerato l'ha pubblicata David non è scritto il costo è di 3 euro io non ci guadagno sostanzialmente nulla l'ho fatto perché è importante a me quella relazione ha aperto gli occhi oggi se io credo a Međugorje è anche e soprattutto grazie a quello che ho letto perché ho letto un lavoro ben fatto e questo per me è la cosa più importante c'è un'altra c'è un'altra domanda chiedono il nome del veggente considerato maggiormente attaccato ai beniterreni era rifatto allora il nome non l'ho fatto io l'ha fatto qualcun altro è Ivan il veggente Ivan ha una storia molto particolare quindi io neanche punterei il dito la cosa che io ripeto è che poco importa noi come sempre crediamo nella Madonna e crediamo in Cristo non per la Chiesa o per i cattivi uomini di Chiesa ci sono magari pochi ma ci sono ma crediamo sempre per quello che rappresenta Cristo e la Madonna per cui se c'è il servo in federe se la vedrà lui se io vedo un prete cattivo non è che non credo più in Cristo in Cristo ci credo lo stesso c'è un'altra un'altra domanda un po' più lunga se le recenti apparizioni post 4 luglio sono esperienze mistiche personali questa notizia non dovrebbe essere divulgata ufficialmente a tutte le diocesi e dunque bloccare tutti gli incontri di folla alla presenza dei veggenti e delle loro feste apparizioni fermo restando che tutto rimane un parere così facendo rimarrebbero esclusivamente attivi i siti di pellegrinaggio e i luoghi perché aspettare ancora semplicemente perché non vedo la ragione nel senso comunque a Međugorje c'è un problema pastorale nel senso le persone vanno lì per pregare che poi ci sia quello che va lì che aspetta con l'orologio in mano la Madonna la Madonna Postina è un problema suo però Međugorje è un luogo principalmente di fede per cui cioè mettersi a dire no perché non è vero perché è un'esperienza personale comunque la gente va lì per la Madonna non per vedere il veggente che vede la Madonna almeno questo dovrebbe essere la cosa principale insomma assolutamente com'è possibile non considerare le guarigioni dal punto di vista soprannaturale visto che su 487 depositate sono state considerate neanche l'1% no diciamo che loro hanno preso quelle che avevano maggiore documentazione medica il problema guardate e qua lo dico senza polemica Lourdes gabinet medical di Lourdes Lourdes esiste Giuseppe fine 800 più o meno sì secondo quante sono state autenticate 69 69 Lourdes che è la patria dei miracoli uno se pensa ad un problema di salute va a Lourdes quindi diciamo che l'1% è perché semplicemente sono state scelte i casi medici con maggiore documentazione allegata perché poi è quello che conta è lo studio sulla documentazione e non nello studio da tutto il resto dalle sensazioni quindi hanno scelto quelle più complete e però purtroppo anche quelle più complete sono risultate non miracolose però questo a noi non cambia nulla non è il miracolo che ci deve far credere perché sennò saremmo come i pagani cioè il miracolo è c'è o non c'è a me cambia poco la gente non andava dietro a Gesù perché faceva i miracoli cioè io vorrei aggiungere questo il miracolo potrebbe essere stato in qualche modo reale però non viene riconosciuto dal punto di vista scientifico la persona può anche effettivamente aver avuto un miracolo però con i canoni scientifici non viene riconosciuto perciò non si può parlare naturalmente di miracolo e lì i canoni sono molto stretti io volevo chiedere Davide anche questo chi sono i due studiosi incaricati dal cardinal Müller non tanto il nome quanto la loro specializzazione e i due incaricati dal Papa e poi siccome criticavano il metodo della commissione che metodo proponevano se hai delle informazioni su questo guarda guarda Giuseppe parliamo sempre di mariologi gli studiosi di mariologia parliamo di professori universitari ma non mi sembra consulenti questo è da verificare ma non consultori presso la dottrina della fede professori universitari di università pontificia uno italiano un altro no dalla parte di Müller e gli altri due invece sono due italiani e il lavoro non scientifico per chi contestava la relazione eroini era dovuto al fatto secondo me di un pregiudizio iniziale qualcuno e lo dico veramente senza fare il nome perché non voglio insomma metterlo alla berlina che ha definito Meggiugori costat de malignitate come si fa come si fa a dire che Meggiugori costat de malignitate ma loro che metodo proponevano visto che non andava bene quello della commissione ne proponevano uno migliore altrimenti se no dicevano che non era scientifico prendere soltanto la parte delle vecchie commissioni che comunque andavano ascoltati tutti i contrari di Meggiugori parla anche di testimoni però il problema vero è che a Meggiugori i contrari testimoni contrari a parte i fedeli che possono essere e a parte il vescovo di Mostar che magari può sapere effettivamente di quello che succede lì il resto è tutto basato su internet cioè paradossalmente il metodo che questi due studiosi offrivano era che la commissione non si era affidata di internet dello studio quando invece la commissione ha fatto vecchia maniera un po' come si dice i giornalisti vai per strada che ti metti su internet vai per strada e trova la notizia quindi senza nella polemica con internet erano erano critiche abbastanza labili non molto consistenti diciamo che era pretestuose io quando l'ho letto ho detto ma molto pretestuose tant'è vero che poi sono state smentite dalle contradduzioni e ho detto ma che state che state dicendo qua così 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 comunque va beh diciamo che se vogliamo nel dialogo ci sta pure la persona contraria però ecco magari un po' più di sostanza non avrebbe fatto male david c'è una domanda su suore manuel maillard penso che sia legata a questo io la domanda è un po' a metà però che valore dare a questo punto alle catechesi sui messaggi che anche persone consacrate come l'ottore manuel divulgano il loco e anche via internet penso alla luce del fatto che le altre apparizioni poi sono considerate come mistiche non il punto è sempre quello io ripeto ma come per che cosa per vedere il fenomeno da baraccone o per pregare la madonna ovviamente non mi riesco a sorre emanuele che è una santa suora e conosco cioè le catechesi ci stanno ma ci sta perché il fenomeno di meggiugorio è un fenomeno mariano non è un fenomeno personale di talve gente che a quell'ora vede la madonna è un fenomeno mariano e poi comunque la chiesa non è che ha detto è così e basta la commissione ha detto per ora la nostra posizione è questa quindi magari tra vent'anni quando il fenomeno è finito o tra 50 anni quando sarà magari si dirà no anche quelle erano vere ma guardate che siccome aver riconosciuto ci vuole coraggio a metterci la faccia nel riconoscere le prime apparizioni questo è un passo da gigante è la prima volta che un fenomeno in corsa ancora in atto viene definito vero anche se nella parte iniziale insomma questo è un cioè pensate a quanta gente che magari non andava a Međugori perché temeva magari tutto falso no ti hanno detto guarda che invece è tutto vero l'inizio è tutto vero poi il resto per ora è questo poi magari tra vent'anni vedremo se è così se non sarà così però secondo me cioè io vedo nella relazione Ruini un grande inizio cioè è una grande parere ma è una grande conferma favorevole a Međugori no questa questa tra l'altro quello che tu hai raccontato di Ruini è stato veramente molto molto interessante perché è quasi diciamo un atto di conversione di Ruini a Međugori ma non so ma tutta la commissione che cambia indirizzo per chi sente la testimonianza di padre Ioso perché è sempre là io faccio questo mestiere se tu le cose non le tocchi e non le vedi se con le persone non parli tu la verità non la sai mai devi andare sul posto devi toccare le persone le devi odorare devi vederle in faccia e secondo me è successo così di padre Ioso chissà che cose avevano detto alla fine l'hanno incontrato a sto poraccio quello gli ha parlato e quello gli parla io ricordo nei verbali nei trovatori quello gli dice ma voi mi dite perché la Madonna gli chiede la commissione perché la Madonna non parla della guerra e lui risponde la guerra ma qui non avevamo da mangiare e secondo me stavo a pensare la guerra ma qui non c'era niente io qua ho visto i miei confatelli ghigliottinati e mi venire a chiedere della guerra qua quando sono venuti i primi pellegrini la gente qui non aveva nulla e offriva da bere gratis a tutti i pellegrini si ospitavano nelle loro case e non avevano niente da mangiare e non avevano loro niente da mangiare dice voi venite come dire vi state a guardare la pagliuzza e non vedete la trave ma ha cambiato guarda e questo bisogna dirle le cose perché è una testimonianza è una testimonianza questa c'è una un'altra domanda ci chiedono l'apparizione è qualcosa che accade senza un aggancio apparente come mai tra i veggenti c'è chi che l'ora resta poco esatto beh è quello che diciamo prima per questo infatti la commissione ha detto che solo le prime il primo periodo è vero perché tutti vedono le stesse cose alla stessa ora allo stesso tempo successivamente invece quello che capita oggi sostanzialmente è ognuno ha personalizzato il fenomeno questo è il termine che usa la commissione ha personalizzato il fenomeno ma questo non vuol dire che è falso è vero è semplicemente un'esperienza personale mistica ognuno per questo motivo per questo motivo io aggiungo che i messaggi sono messaggi dei veggenti che i veggenti attribuiscono alla Madonna ma sono il messaggio è una loro interpretazione di quanto avrebbero sentito dalla Madonna perciò vanno valutati per quello che sono cioè per me ha ragione la commissione a non riconoscerli all'interno del fenomeno iniziale di Međugorje un po' metterli allo stesso livello del fenomeno iniziale guarda che questo adesso questo nuovo modo di procedere che è rivoluzionario dopo 2000 anni sta cambiando il modo per discernere le apparizioni è stato preso come esempio per le nuove norme che dovrebbero uscire a breve per riconoscere le apparizioni cioè per la prima volta e spero di aver contribuito in questo senso visto che di mestiere cerco di fare questo per la prima volta si dà uno statuto al veggente cioè voi pensate sempre alla piccola Bernardette ma è forse il caso più 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 famoso ma meno conosciuto è quello dei due veggenti della Salette Melani Melani che è una delle veggenti l'altro è il ragazzo è stata massacrata cioè oggi i veggenti come è successo a Bernardette come è successo a Tre Pastorelli come è successo alla Salette non hanno protezione per cui se io ho un'esperienza di questo genere la mia figura non è canonicamente inquadrata e quindi grazie a Meggiugorio a questo lavoro le nuove norme prevedono lo statuto del veggente cioè il veggente finalmente avrà una protezione canonica parliamo ovviamente di cose che siano se viene riconosciuta esatto ma che abbiano anche in corso ma che abbiano un minimo di come di veridicità per cui l'accompagnamento è sempre dovuto il vescovo non può più far finta di nulla se tu hai una presunta veggente che dice di vedere la Madonna il vescovo con le nuove norme che saranno approvate avrà l'obbligo di intervenire e di seguire pastoralmente la veggente o il veggente questo ad oggi non c'è i ragazzi sono stati abbandonati per 40 anni ci è voluto Fabio Francesco che il poveraccio dall'Argentina ha dovuto mandare un vescovo per seguirli 40 anni abbandonati ma è un miracolo che sono rimasti così è solo quello di questo è già la prova di Meggiugori e che sono 40 anni e questi ragazzi abbandonati sono rimasti così la prova è quella che hai detto prima in 40 anni non ci sono mai contraddetti non c'è mai o più se fosse stato tutta una montatura prima o poi uno sarebbe andato contro l'altro inevitabilmente non sarebbero rimasti compatti in 40 anni perciò questo è uno dei motivi che ci fanno capire che Meggiugori è vera ma io ormai sul Meggiugori ormai non bisogna più avere dubbi ognuno crede quello che vuole e ripeto non si è obbligati a credere ma dopo aver letto questo perché io poi mi indigno su questo quando sento persone che parlano di Meggiugori e non hanno letto la relazione non può essere questo è l'unico documento ufficiale dell'ultimo tempo il più aggiornato che parla di Meggiugori tu lo devi leggere e poi vieni e mi dici io non credo a Meggiugori per questo per questo e per questo allora ci sto ma io sento ecclesiastici e questo mi indigna perché sono persone anche che stimo che parlano di Meggiugori senza aver letto una riga e questo è il testo è il documento di testo questo è il libro di scuola tu non puoi parlarmi di ABC se non c'è il libro di scuola quindi dovete leggere chi vuole parlare di Meggiugori deve leggere la relazione e poi può parlare dico anche a qualcuno che scrive libri contro Meggiugori e poi peraltro mi cita anche quindi mi fa anche piacere che però deve avere l'onestà intellettuale di leggersela tutta la relazione tutta e poi può dire quello che non gli piace perché non è che devi piacere però devi essere onestamente deve essere intellettualmente onesto e riconoscere che questo è il lavoro migliore che c'è e non puoi non leggerlo se vuoi parlare di Meggiugori scusatemi lo sfogo no 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 è correttissimo assolutamente corretto oggi si va presso che per pochismo in certe cose si va come dicevi tu si va su internet per documentarsi invece bisogna bisogna studiare bisogna tornare a studiare sui libri fatti di carta e non solo su quello che c'è in rete invece era interessante quello che tu dicevi a proposito di queste nuove norme che potrebbero essere emanate perché per altro verso questa cosa potrebbe aiutarci anche in tutte quelle altre situazioni che tu conosci di apparizioni che poi deviano verso altri moliti o creano separazioni divisioni scontri all'interno degli esi locali delle biose se vuoi in Sicilia ne avete qualcuno voi in Sicilia ahimè ne avete qualcuno no no le nuove norme sono fondamentali ormai le norme sono del 78 del 78 del 78 non neanche ero nato io ero nato mi sto togliendo troppi anni poi forse Giuseppe aveva avuto 5 anni nel 78 quindi cioè non si può non c'era internet nel 78 e tu stai disciplinando un fenomeno con norme nel 78 sono un po' un po' passate da questo punto di vista anche se l'ossatura di quelle norme comunque è buona è andata bene per l'Urd è andata bene per Fatima ma adesso bisogna un attimino rivederle ti ripeto almeno l'obbligo di intervenire l'obbligo dell'azione penale si chiama in diritto ecco l'obbligo di intervenire il vescovo ha l'obbligo di dire anche se dice aspettiamo però lo devi dire perché se no non si capisce niente casi che conosco benissimo che di cialtroni del genere che ora sono in galera sono nati indisturbati perché nessuno si è mai interessato invece mettendo l'obbligo giuridico vedrai che per forza qualcosa si limita insomma no? senti c'è c'è Barbara Giovanna Balestrino che manda un messaggio ci dice che padre Slavko Barbaric era stato messo a seguire spiritualmente i veggenti però da chi? dalla Santa Sede o dai vescovi croati bosniaci? penso che la Santa Sede non sia mai intervenuta direttamente quindi o è stata una iniziativa o perché un'iniziativa sua personale d'accordo la commissione non ne parla la commissione non ne parla la commissione non ne parla perciò probabilmente era un'iniziativa personale e la commissione in accordo con i veggenti e forse anche questo dimostra il fatto che la commissione interrogata insieme a padre Ionzo solo il parroco di allora non ricordo come si chiama ma non era lui era un altro quindi forse è stata una sponte sua una sua come dire una non so non voglio dire comunque i frati hanno sempre seguito i veggenti bene o male qua sulla commissione non è così certa la commissione accusa tra virgolette se accusa si può fare anche i frati di questo dicendo l'avete un po' persi forse ultimamente un po' si sono ma io capisco anche i frati con il vescovo contrario come fai cioè capisci che insomma diventa tutto difficile che volevo dire cosa succederà a Meggiugorio adesso questo secondo me è anche interessante se abbiamo ancora qualche minuto poi ho visto ci sono anche altre domande ci sono delle altre domande allora cerchiamo di affrontarle una per una finisco mi ha mandato un altro messaggio sempre Giovanna Barestrino parlando di Padre Slavko Barbaric o Barbaric non so come si pronunce grazie alla sua conoscenza delle principali lingue europee e degli impegni nelle parrocchie in cui avevo operato Padre Slavko lavorò instancabilmente con i peregrini a Meggiugorio sin dal momento in cui portò a termine gli studi nell'82 egli fu trasferito ufficialmente a Meggiugorio nell'83 su richiesta dal vescovo Zalic nell'85 fu assegnato alla parrocchia di Blagai e nell'88 a Umac quindi si si quindi allora magari diciamo che fu a ricoprire in carico di cappellano e aiuto insegnante dei novizi poi dice altre cose all'inizio della guerra in Borgia di Degovina quando tutti i frati più anziani andarono a Tuceppi come esuri Padre Slavko rimase in Meggiugorio con l'approvazione verbale di Padre Drago Ton provinciale dell'epoca era un incarico che è riuscito dai dai disco di mosse di Padre Provinciale immagino prego Dullio allora chiedono intanto se la relazione di cui parli è quella di Saverio Gaeta ok allora la relazione di cui parlo è Saverio Gaeta sono uscito prima io e poi è uscito Saverio Gaeta io l'ho pubblicata con in self publishing cioè l'ho pubblicata con Amazon quindi se volete leggere la mia ma è la stessa la trovate su Amazon e con la copertina nera a rapporto su Meggiugori e ho aggiunto al collega Saverio la testimonianza di questa donna di Dorinca che farà cambiare sarà una delle cose che farà cambiare in qualche modo la posizione nei confronti di Meggiugori e troverete anche le norme di cui stiamo parlando adesso allegate delle norme del 1978 quindi il rapporto su Meggiugori è il mio libro e lo trovate su Amazon sia in versione Kindle sia in versione cartacea al prezzo di 3 euro e qualcosa un po' ricordo nel tuo libro non hai messo i nomi ho messo i nomi delle persone sì è un'altra cosa che mi differenzia da Saverio io ho preferito tutelare i nomi delle persone quindi nel mio libro non trovate i nomi e non mi sembrava giusto e non volevo la caccia alle streghe contro il povero reggente non ritenuto affidabile neanche contro il vescovo di di Mostar e anche troverete i membri della commissione se non ruvini che è quello noto e però questa è stata una mia scelta quindi poi per carità chi ha pubblicato tutto ha fatto la sua comunque tra un po' c'è la relazione per intero sì 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 tutta la relazione per intero quella che vi ho letto è tutta spiegata e vi consiglio è un capolavoro leggetela perché è un giallo mi metterete lì e ve la leggerete tutta di seguito come ho fatto io poi uscirai con tutta la documentazione tra poco tra qualche mese con tutto pubblicherò tutto quello che c'è su meggiugorio anche perché è troppo bello mi dispiace non pubblicarlo va pubblicato e soprattutto la testimonianza di Padre Iozzo che secondo me è il vero motivo è il vero motore di questa relazione quindi viva veramente Padre Iozzo ha fatto veramente un gran bel lavoro lo voglio fare vediamo come stiamo mettendo i nomi anche qui perché poi mi ripeto un meggiugorio è talmente tante cose insieme che io le prime volte mi dovevo prendere la lavagna e farmi grafici per capire tutte le porte che si aprivano ogni volta che si parlava di meggiugorio perché c'è Padre Iozzo ci stanno una cosa che dice la commissione attenzione ai confessori perché hanno scoperto confessori abusivi soprattutto di donne cioè persone che andavano là si vestivano da prete si mettevano la stola e confessavano solo donne e allora hanno chiesto la commissione chiede al vescovo a Ose sostanzialmente di vigilare su chi confessa proprio per evitare abusi e poi esistono mille realtà troppe realtà a meggiugorio non c'è un censimento delle realtà ecclesiali presenti a meggiugorio questo è gravissimo perché ci sono infiltrati ci sono personaggi inquietanti ci sono strutture a Blasic il frate sposato l'ex frate sposato con la suora il culto ufologico eccetera ha la casa principale la sua casa generalizza è ancora a meggiugorio in questa nuova culto ufologico che è inventato sta a meggiugorio quindi ci vuole una mappatura di tutte le realtà che esistono a meggiugorio ti chiedono anche se puoi dire quali sono i punti di contatto con Belpasso tra meggiugorio e Belpasso allora con Belpasso questo è più tu 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 con Belpasso la commissione ha pensato questo a Belpasso è stato fatto Belpasso lo dico perché non sa cosa sia è un luogo della Sicilia dove ha un professore universitario universitario mi sembra vero tu tu Rosario era un ragazzo allora oggi professore universitario oggi io ci andavo a Belpasso a vedere affermava di avere esperienze di questo tipo e cosa ha fatto la chiesa è quello che un po' ha fatto anche alle tre fontane a Roma però diciamo che quello che fa scuola è il caso di Belpasso ha ufficializzato il culto quindi ha creato il santuario ha dato quindi un posto fisico alle persone che vanno a pregare perché c'è stata ci sarebbe stata l'apparizione ma non ha riconosciuto allo stesso tempo l'apparizione cioè non è che ha detto è falsa non ha detto niente un po' alla democristiana però ha dato un luogo di culto e il punto di contatto con Medjugorje è proprio questo loro la commissione quando gli è stato chiesto quali sono i consigli che puoi darci la commissione ha detto facciamo un nuovo santuario quindi questo è interessante anche quindi possono togliere la parrocchia ai frati se no ci sarebbe una rivoluzione che non sarebbe neanche corretta però facciamo un nuovo santuario lo facciamo sul podro sul luogo delle apparizioni ci mettiamo dei religiosi insomma quello che è lasciamo la parrocchia ai frati quindi riconosciamo il culto ma non le apparizioni questo è lo stesso principio come le tre fontane le fontane stessa cosa c'è un veggente morto recentemente che dà vita a questo culto alla madonna della rivelazione nasce il santuario delle tre fontane ma cornacchiola che è il veggente non ha avuto nessun riconoscimento per quello che ha vissuto questo è un po' il punto di contatto l'ultima l'ultima domanda dico a tutti quelli che ci stanno seguendo che poi con il permesso di David metteremo la videoconferenza la registrazione la metteremo lui la metterà sul suo blog il segno di Giona dove potete seguire tutte le sue attività noi la metteremo sui nostri siti del Gris sul sito del Gris nazionale immagino poi Giuseppe ci darà conferma la stai registrando la stai registrando sì l'ultima domanda che ti fanno è su Padre Iozzo sul perché sia stato allontanato da Međugorje e perché non ritorna visto il grande carisma che ha dimostrato di avere ripeto dopo che ho letto adesso io non ho conosciuto mai Padre Iozzo però ho letto il suo interrogatorio e ha commosso me come ha commosso i membri della commissione esattamente non so il motivo mi parlano di problemi di abusi sessuali mi parlano quindi io non so se sono veri o meno fatto sta che Padre Iozzo non è più a Međugorje ma la provincia lui non è un prete è un frate quindi il suo superiore che il prete provinciale ha deciso di spostarlo ora non so se ha fatto bene o ha fatto male però già il fatto dell'obbedienza mi sembra un buon come dire un buon segno per insomma anche di santità insomma se vogliamo però non so esattamente il motivo ecco il motivo guarda anche a me ma questo è da tanti già da parecchi anni è più o meno quello che hai detto tu l'hanno allontanato messo potremmo dire tra virgolette al confino e lui ha accettato senza fare obiezioni sta soffrendo anche per questo probabilmente non è che non sia un prete è presbitero padre Iodio non è non è un diocesano scusami non è un diocesano ma è un religioso e quindi non è colpa del ma è colpa tra virgolette del padre provinciale che ha deciso per le sue ragioni di spostarlo però questo è successo con tutti con padre Pico con tutti quindi diciamo che il primo segno secondo me della vera santità se vogliamo parlare di santità è proprio l'obbedienza anche ad accuse a calunnie accuse ingiustificate accuse senza prove quindi poi viene fuori non dobbiamo preoccuparci che viene fuori e poi insisto leggere quella testimonianza mi ha commosso quindi personalmente su la la santità di vita di padre Iodio non ho nulla da dire bene allora se siete da concludiamo qui e poi chi vuole può rivedere la registrazione di questa questo bellissimo incontro con David che ci ha chiarito tante tante idee perché su Međugorri si dicono tante cose ma come ci hai ricordato tu spesso sono frutto di come dire notizie apprese sulla rete e non non cercate sul campo come in questo caso ti ho ricordato quindi grazie per averci chiarito qual è la 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 posizione ufficiale l'unica posizione ufficiale che la Chiesa ha su Međugorje ovviamente senza creare grandi attese perché sappiamo perfettamente che la rivelazione come ci hai ricordato tu è una che si è conclusa e tutto il resto è un dono un dono in più che ci viene che ci viene offerto ma che non aggiunge nulla a quanto già in Gesù ci è stato stato e nella rivelazione del stato quindi grazie buona lettura leggetelo il testo di Davide che è veramente illuminante ringrazio Giuseppe non so se il nostro segretario nazionale vuole dire qualcosa no no ho già parlato anche troppo va bene allora interrompiamo qui e ringrazio ancora Davide ringrazio se vuoi e tutti quelli che ci hanno scritto grazie buona serata grazie a tutti ciao ciao grazie ciao ciao allora Tullio è andata bene stanno uscendo un attimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti usciamo Tullio ci risentiamo dopo va bene ok chiudo la la riunione allora va bene Giuseppe ci sentiamo dopo ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti